Non una buona notizia in casa di sua santità, il vicario di Cristo si è pa' Francesco. Pensate infatti che Monsignor Edgar Penaparra e il Cardinal Pietro Parolin sarebbero risultati positivi al tampone che avrebbero, diciamo così, avuto, a cui ci sarebbero sottoposti. Sono entrambi vaccinati e hanno ricevuto addirittura la terza dose. Parolin avrebbe dei sintomi molto molto lievi, come ci riferisco dalla sua stampa del Vaticano. Invece Penaparra addirittura non ha sintomi. Entrambi però si trovano in isolamento fiduciario, come è giusto che sia, seguendo quello che è il protocollo sanitario nazionale. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Entrambi hanno preso la terza dose e sono entrambi vaccinati, con tre dosi. Il video termina qua. Iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate. Questo video non vuole ledere la privacy di Parolin e di Edgar Penaparra, ma solo informare eventuali sui mani, nel pieno rispetto della loro persona e della loro privacy. Un saluto caro D'Aliandro, narratore italiano.